Musica Bella a tutti ragazzi, sono un salto sul mio nuovo video ed oggi vi mostrerò un nuovo tutorial su come cambiare la forma di Rotom in Pokemon Zaffiro Alpha Rubino Omega e quindi la prima cosa che dovete fare è avere un Rotom, questo è il Pokemon sicuro e andare ad Albanova, cioè la vostra città, la prima città in cui arrivate e andare nel laboratorio del professor Birch perché tanto è sempre lui come in Pokemon X-Y, per cambiare la forma di Rotom, devono essere dei scatoloni cioè non so perché, ma se c'erano dei scatoloni, Rotom può cambiare forma questo è poco ma sicuro quindi c'erano scatoloni pieni di apparecchiure perché Rotom è incuriosito del motore di questi dispositivi vuoi farlo entrare in un motore? Sì quale Rotom vuoi farlo entrare in un motore? beh, ne ho due però, diciamo, entra uno qua perché vuoi entrare? Allora contate che nei giochi competitivi sono sempre Rotom lavatrice e para idropompa ma fa a tempo un pino cioè, mi devi pure boffa con idropompa e allora gli elevo doppio team levamoci, doppio team doppio team doppio team uno, due, ta-da assolida doppio team e al suo posto impara idropomp idropompino impara idropompa e quindi ora abbiamo pino alla lavatrice e ora facciamo entrare in un'altra perché tanto così è bellezza e abbiamo anche quello già il cagliaerba abbiamo quindi allora, forno a microonde così almeno verde fuori è in para-pampata ok e quindi intanto vi mostrerò le prime due forme che sono Rotom lavatrice e Rotom microonde scusate, sono due Rotom diversi uno si chiama Zappo perché l'ho chiamato così io che viene da Pomo XY e quindi amen quindi abbiamo già due forme e quindi diciamo di mostrare tutte quante le forme così far entrare in un motore si entrare in un motore entra bitch qual è perché l'altro entrare là? lavatrice forna a microonde la lavatrice frigorifero ah, impara Bora cioè ogni volta che vedo la mossa Bora penso sempre a quell'episodio di Pomo Consinno no? quando deve quando sta Ash Stassino e deve combattere contro Paul che poi c'ha un Weavile che dice fare l'attacco dice usa Bora invece di usare invece di dire usa Bora dice usa sbora cioè è una cosa pazzesca e in cerito diceva usa sbora cioè e allora frigorifero ventilatore entrare nel motore e quindi mi fa il telerama minchia e quindi